Anche questa volta sbattiamo la testa contro la fenomenologia dello spirito e in particolar modo cercheremo di leggere e commentare le prime pagine della sezione intitolata La verità della certezza di se stesso, che per intenderci sono le pagine che seguono la trattazione dell'intelletto e precedono la celebre dialettica servo padrone. Ora io ho già avuto modo di dedicare altri due video alla fenomenologia dello spirito e ve lo faccio presente perché ci saranno dei riferimenti, diversi riferimenti in particolar modo all'introduzione che però non espliciterò ulteriormente proprio perché sono già stati trattati altrove. Iniziamo con la lettura Nelle modalità della certezza fin qui incontrate la coscienza considera il vero come qualcosa d'altro da se stessa Hegel sta sostanzialmente facendo il riassunto delle puntate precedenti e ci dice che sin qui la coscienza ha considerato il vero come qualcosa d'altro da se stessa Noi l'abbiamo visto soltanto nel caso della certezza sensibile ma ciò vale anche per la percezione e per l'intelletto il vero è ritenuto essere come qualcosa d'altro rispetto alla coscienza che lo conosce Se noi volessimo sintetizzare il principio generale di queste tre figure precedenti possiamo proprio sintetizzarlo nell'alterità dell'oggetto rispetto al sapere Il vero l'insè è qualcosa d'altro, qualcosa d'estraneo rispetto alla coscienza che lo conosce C'è dunque possiamo dire una preminenza dell'oggetto rispetto all'io C'è questa preminenza perché appunto la verità è tutta appannaggio del polo dell'essere diciamo così Per cui l'io non è mai considerato direttamente per se stesso ma sempre così come si rapporta all'oggetto Sempre così come quindi si rapporta ad una realtà che è dall'io ritenuta essere estranea Nel corso dell'esperienza che lo concerne però il concetto di questo vero di legua Qui il concetto di questo vero significa appunto il ritenere il vero come l'insè Questo ritenere il vero come l'insè di legua perché la coscienza fa esperienza della falsità di questa nozione di vero La coscienza fa esperienza dell'inadeguatezza della sua certezza rispetto alla verità O meglio fa esperienza dell'inadeguatezza della sua certezza rispetto a ciò che lei ritiene considera essere il vero Di volta in volta l'oggetto era immediatamente in sé l'essente della certezza sensibile il questo La cosa concreta della percezione e la forza dell'intelletto Ma esso mostra piuttosto di non essere così in verità E tale insè risulta solo dal modo in cui l'oggetto stesso è per un altro Cioè l'insè nel corso dell'esperienza che la coscienza ne ha fatto Ha dimostrato di non essere l'insè ma di essere un insè solo per la coscienza Un insè che è tale per la coscienza Cioè vediamo all'opera quella dialettica tra insè e per sé Che noi abbiamo già tematizzato nel video dedicato all'introduzione della fenomenologia Il concetto dell'oggetto E qui il concetto dell'oggetto significa appunto la rappresentazione soggettiva Che ha la coscienza dell'oggetto del vero come di qualcosa di separato da sé stessa Rimuove sé stesso nell'oggetto reale E ciò equivale a dire che la prima rappresentazione immediata Cioè quella per cui il vero sarebbe qualcosa d'altro rispetto alla coscienza che lo sa La mia prima rappresentazione immediata rimuove sé stessa nel corso dell'esperienza In tal modo la certezza andava perduta nella verità La certezza si perde nella verità perché la coscienza scopre Che la sua certezza è inadeguata rispetto a ciò che lei considerava essere il vero Se ciò che la coscienza ritiene essere l'in sé Non è adeguato al modo in cui lei lo conosce Cioè non è adeguato al sapere che ne ha Essa, la coscienza, deve mutare questo sapere affinché appunto sia adeguato al vero Ma noi sappiamo bene, lo sappiamo dall'introduzione Che mutando il sapere muta anche l'oggetto Ed è esattamente quello che stiamo per vedere Ormai è invece sorto qualcosa che non si presentava nei comportamenti precedenti Qualcosa è accaduto, qualcosa è successo E cioè una certezza che è uguale alla propria verità Adesso infatti la certezza ha sé stessa per oggetto E la coscienza sa di essere essa stessa il vero Per capire che cosa qui Hegel sta dicendo Vi devo sintetizzare brutalmente E di una sintesi brutale si tratterà Ciò a cui mette capo l'esperienza dell'intelletto Quindi la vicenda precedente L'ultima esperienza che ha compiuto la coscienza Prima di approdare a queste pagine Qual è la caratteristica dell'intelletto O come pure la chiama Hegel La potenza dell'intelletto Quella di introdurre ovunque distinzioni Differenziazioni Solo che nella misura in cui l'intelletto agisce in questo modo Per dire così Non riesce a render conto dell'oggetto O meglio non riesce a render conto Di quelle che sono le caratteristiche strutturali dell'oggetto Vale a dire l'unità e il movimento E noi qui già vediamo che il problema sta nel fatto Che queste due caratteristiche sono caratteristiche contraddittorie Ripeto, fino a quando l'intelletto si intestardisce Nel tenere ferme e salve le differenziazioni Non riesce a rendere conto dell'oggetto Perché queste determinazioni Queste differenziazioni Si autodistruggono O meglio Si rovesciano l'una nell'altra Ognuna si rovescia nel suo contrario Fino a quando possiamo dire È l'intelletto ad accorgersi Che in fondo è l'oggetto stesso Ad essere questo movimento Che pone e toglie le differenze È l'oggetto stesso ad essere Come pure la chiama Hegel Questa unità dei distinti Questa unità dei differenziati Unità che appunto tiene assieme le differenze Nel momento in cui faccio l'intelletto Nel momento in cui, come dice Hegel L'intelletto pensa l'opposizione in se stessa Cioè la contraddizione Diviene qualcosa d'altro Infatti, sempre in questa sintesi brutale Possiamo dire che è come se l'intelletto Si rendesse conto che sino ad allora Non ha fatto altro che guardare se stesso Credeva di guardare la cosa Di relazionarsi con la cosa Ma in realtà si relazionava con se stesso E perché? Perché questo movimento Del porre e togliere le differenze O meglio, questo movimento Che pone le differenze Per toglierle Per ricondurle all'unità È un movimento che caratterizza La coscienza Che si rapporta a se stessa Cioè che caratterizza L'autocoscienza Per capire meglio E cercare di dare sostanza A questa sintesi brutale Vi leggo un passo Che tratto dalle ultime Pagine Della sezione Della parte dedicata all'intelletto Che per essere precisi Si intitola A forza e intelletto Poiché adesso Il suo oggetto E questo concetto Dell'infinità Lo vedremo più avanti Quando Hegel parla di infinità Sta parlando di questa Unità dei distinti Sta parlando di questa Unità Che tiene assieme Le differenze La coscienza È dunque coscienza Della differenza Immediatamente rimossa La coscienza È per se stessa È differenziazione Di ciò che è differenziato Cioè autocoscienza Fin qui Si è capito poco Ma Hegel Specifica subito Io Mi differenzio Da me stesso E in questa attività Un tale differenziato È per me Immediatamente Non differenziato È l'io Che è oggetto dell'io Io L'omonimo Mi respingo Da me stesso Immediatamente Però Questo differenziato Questo qualcosa Posto come disuguale Qui viene posta La differenza Per me Non costituisce più Mentre è differenziato Nessuna differenza Che cosa ci ha detto Qui Hegel Parlando dell'autocoscienza Che appunto L'autocoscienza È il momento In cui l'io Ha come oggetto Il suo io E l'io Che è oggetto Dell'io L'autocoscienza È il movimento E il contenuto Stesso di questo movimento L'autocoscienza È il movimento Che pone la differenza Io che mi differenzio Da io Per tuttavia Rimuoverla Immediatamente Ora Se sin qui Non è tutto chiaro Non vi preoccupate Perché tanto Come succede sempre Con Hegel Non lo sarà neanche dopo Scherzo Cercare di capire Che cosa sia Un'autocoscienza Quale sia La dinamica Che caratterizza L'autocoscienza È proprio il tema Di queste pagine E si spera dunque Anche di questo video Quindi cerchiamo Di pazientare Man mano Ciò che ho detto Dovrebbe divenire Più chiaro Ora Riprendendo la Nostra lettura Io salto il passo In cui Hegel Sostanzialmente Esprime Ci parla Dell'identità Del concetto E dell'oggetto Perché adesso Possiamo parlare D'identità Di concetto E oggetto Lo abbiamo appena detto Perché adesso La coscienza Ha per oggetto Se stessa Ovviamente Questa identità Che qui La coscienza Ha raggiunto È un'identità Che è tutta da farsi Si deve fare Si deve scoprire Perché altrimenti Hegel avrebbe intitolato Questa sezione Lo spirito assoluto Avrebbe già pareggiato L'essere con il sapere E la storia sarebbe finita Noi invece sappiamo Che di strada Da fare La protagonista Di questa storia Ne ha ancora tanta Il protagonista Poi in realtà Il vero protagonista È lo spirito Del passo Che non vi leggo Vi leggo invece Soltanto la conclusione Che poi ribadisce Quanto ho cercato Di spiegare Poc'anzi Io È il contenuto Del rapporto Ed è l'attività Stessa Del mettere In rapporto Io È di fronte Ad un altro E nello stesso tempo L'oltrepassa E perché l'oltrepassa? In quanto questo altro È per io Soltanto io stesso Sono io Che mi differenzio Da me Per fare di me L'oggetto Della mia coscienza Quindi diciamo così Che l'io Si differenzia Da sé Per tornare a sé Pone la differenza Ma la pone Per toglierla Con l'autocoscienza Con l'autocoscienza Dunque siamo entrati adesso Nel regno Originario Della verità Ora Regno originario In tedesco Si dice Ainaimische Rai Rai Sappiamo che cosa significa Qui viene tradotto Col regno Ma qui il termine Che ci interessa È Ainaimische Che sostanzialmente Rimanda Diciamo così Alla terra nativa Alla terra nativa Alla terra nativa Ad un luogo che è familiare Tant'è che ci sono altre traduzioni Straniere Che restituiscono questo passo Parlando ad esempio Della casa natale Della verità Ma perché con l'autocoscienza Per dir così Il vero Si sente a casa Il vero è finalmente In questo luogo familiare Perché lo abbiamo appena detto Adesso concetto ed oggetto Coincidono La coscienza Non deve più cercare Al di fuori di sé Il vero Che era quanto accadeva Esattamente prima Nelle tre figure precedenti Data l'alterità Dell'oggetto Rispetto al sapere Il vero L'in sé Era tutt'altro Che un luogo familiare Adesso invece Che concetto ed oggetto Coincidono Il vero È finalmente Questo luogo Questo regno familiare Questo regno Dove La coscienza Può sentirsi Finalmente a casa A differenza Di quanto invece Accadeva prima Cioè nelle tre figure Precedenti Dove c'era una Rappresentazione Soggettiva Che doveva Adeguarsi Alla verità All'oggetto E dove Appunto Soggetto e oggetto Restavano l'uno Estrano all'altro Ora che fine ha fatto L'esperienza precedente Ha dimostrato Di non essere il vero E dunque Ce ne possiamo sbarazzare Finita nel nulla Ovviamente Noi sappiamo Che il vero E l'intero Sappiamo che le cose Non stanno così Ed è proprio quello Che Hegel Sta per dire Adesso è necessario Vedere in che modo La figura Dell'autocoscienza Entri inizialmente In scena Se confrontiamo La nuova figura Del sapere Con quella precedente Vediamo subito Che quest'ultima È dileguata Mentre i suoi momenti Si sono A un tempo Conservati La perdita Consiste nel fatto Che quei momenti Sono dati Così come essi Sono in sé Ma come sono in sé? L'essere Dell'opinione La singolarità E la contrapposta Universalità Della percezione Il vuoto interno Dell'intelletto Quindi ha ricapitolato Non sono più come essenze Bensì Come momenti Dell'autocoscienza Dunque E lo abbiamo già detto In precedenza Gli oggetti Gli oggetti Che erano a tema Nella sezione precedente Permangono Ma non permangono Più come l'in sé Come delle essenze Permangono Come dei momenti Dell'autocoscienza Perché l'in sé Si è scoperto Essere un in sé Solo per La coscienza Dunque Qual è l'in sé Di questi momenti? Il loro Essere per sé L'essere per sé Dell'in sé Di cui E ribadisco Abbiamo già parlato Anche nell'introduzione E tra l'altro Vi faccio notare Che quando Hegel Parla di momento Intende L'elemento Di un tutto Che però Non può essere Considerato Autonomamente Ma che appunto In quanto elemento Di un tutto Riceve senso Solo in relazione A questo tutto E quando diciamo questo Non stiamo dicendo Nulla di diverso Rispetto a ciò Che diciamo Quando affermiamo Che il vero E l'intero O quando diciamo Che l'aufhebun È un togliere È un conservare Un fare entrare In relazione La cosa Con il suo opposto In unità Con il suo opposto Potremmo dire Sembra dunque Che sia andato O perduto Soltanto il momento Principale Cioè Quello che per la coscienza È la sussistenza Semplice Autonoma Il loro preteso Sussistere per sé Di quei momenti Come se non si Relazionassero Rispetto al tutto Come se non ricevessero Senso dal tutto Di fatto invece Dice Hegel L'autocoscienza È appunto La riflessione A partire dall'essere Del mondo sensibile Percepito Che quindi Non è stato semplicemente Nullificato Ma lo sappiamo Ed è perciò Essenzialmente Il ritorno Dall'essere Altro Belle espressioni Con cui Hegel Definisce L'autocoscienza Ripetiamo La riflessione A partire dall'essere Del mondo sensibile Percepito Il ritorno Dall'essere Altro Ora Quando Hegel Dice che L'autocoscienza È il ritorno Dall'essere Altro Vuole dire Che questo Essere Altro È costitutivo Per l'autocoscienza Qui si inizia a scorgere Quello che poi È il succo Di queste pagine E cioè Che ciò che è altro Da noi Si debba Conservare Affinché qualcosa Come un'autocoscienza Possa sorgere Questo Auto Dell'autocoscienza Questo Riferirsi Del sé Al sé Deve pure Fare i conti Con ciò che è altro Da lui Per costituirsi Come tale Dobbiamo immaginare Qualcosa Che Si fleccia Esce fuori Per poi Ritornare Dentro Ripiegarsi Riflettersi A patto però Da non considerare Questo dentro E fuori Come dice Hegel Come il sale E l'acqua Altrimenti Presuppongo Dopo è presupposta La loro separazione E non vedo Come possano Entrare L'azione Avrei per dir così Un dentro Che se ne sta tutto Presso se stesso Già bello e compiuto E non si spiega Perché poi dovrebbe Uscire fuori Per dirigersi Presso un fuori Che sarebbe Anche egli Tutto presso se stesso Già bello e compiuto In quanto autocoscienza Infatti Essa è movimento Quando però Differenzia da sé Soltanto se stessa In quanto se stessa Ecco che Ai suoi occhi È immediatamente Rimossa la differenza Come essere altro In tal modo La differenza Non è E l'autocoscienza È solo L'immobile Tautologia Io Sono Io Dunque si tratta Di una identità formale Astratta Che è tale Proprio perché Resta in opposizione Con il mondo Della coscienza Cioè con una realtà esterna E qui Tra le righe Lo dico solo An passante Hegel sta tirando Una stoccata Nei confronti di Fichte Quando parla di una Vuota immobile Tautologia Io sono io E tra l'altro Riallacciandomi al discorso Che facevo precedentemente Se l'autocoscienza Fosse questa Immobile identità Io Uguale io Appunto Non si vede perché Per quale motivo Dovrebbe poi Mettersi in moto E relazionarsi Con ciò che è altro Da se stessa Dunque La vera identità È quella che Contiene in sé La differenza La vera identità È l'unità Di distinti Potremmo dire Con un linguaggio Non hegeliano Che l'identità Sorge sempre A partire da Un gioco Di differenze Per cui quelle differenze Sono essenziali Rispetto all'identità Per entrare maggiormente Nel vivo della questione Vi leggo un passo Che è sempre tratto Dalle pagine Conclusive Della parte Dedicata all'intelletto L'aver coscienza Di un altro Di un oggetto In generale È già necessariamente Autocoscienza Riflessione entro sé Coscienza di se stesso Nel proprio essere altro Però Aggiunge subito Hegel Questa verità Tuttavia È presente solo Per noi Sul per noi Non mi soffermo Perché Anche questo È stato oggetto Del video Dedicato all'introduzione Questa verità Dicevo È presente solo per noi Non ancora Per la coscienza L'autocoscienza È divenuta Solo per sé Non ancora Come unità Con la coscienza In generale Quindi noi sappiamo Quello che la coscienza Ancora non sa Cioè l'autocoscienza Deve scoprire Che se è un risultato Che se è la verità Della coscienza Dunque Per definire Ciò che l'autocoscienza è È necessario Tenere presente Questa sua Relazione Con la coscienza È necessario Tenere presente Il fatto Che l'autocoscienza Sia il superamento Della coscienza Quindi la coscienza E il mondo Che è il suo oggetto Sono conservati Nell'autocoscienza Come i suoi momenti E allora E con ciò Siamo ritornati Alle pagine oggetto Di questo video Nella misura In cui Agli occhi Dell'autocoscienza La differenza Non ha La figura Dell'essere L'autocoscienza Non è Propriamente Autocoscienza Vale a dire Che senza Coscienza Del mondo Non si dà Autocoscienza Vale a dire Che nessun io Può dirsi tale Senza riferimento All'altro Che poi Ripeto È sostanzialmente Il succo Di queste pagine Salto un piccolo passo Per l'autocoscienza Quindi Il mondo sensibile È una sussistenza Soltanto fenomenica Apparente Quindi qui In senso spregiativo Dell'Earshaen Abbiamo parlato Già nel video Dedicato all'introduzione E cioè Una differenza Che non ha In sé Nessun essere È in essenziale L'essenza Di questa opposizione Tra il suo fenomeno E la sua verità Però Cioè Questa opposizione Che vede L'autocoscienza Appunto In opposizione Al mondo esterno Si sa Come in opposizione Al mondo esterno Non è altro Però Non è altro Che la verità Vale a dire L'unità Che io ho Che io ho Nella mia versione Procede Procede all'eliminazione Cosa che è oggetto Che è oggetto Dell'appetito Non è indipendente Tant'è Ripeto Che per l'appunto L'appetito La assimila La fa propria E dunque Alla base Di questo Appetito È presupposto Il carattere Meramente Fenomenico Del mondo Diciamo così La sua Inessenzialità Il suo essere È un semplice Mezzo Potremmo dire Per la conservazione Del sé Proprio perché Il mondo Fenomenico È inessenziale È mera Apparenza Io me ne servo L'autocoscienza Che è anzitutto Appetito Se ne serve E se ne serve In particolar modo Assimilandolo Facendolo proprio In quanto Autocoscienza La coscienza Ormai È un duplice Oggetto L'oggetto Immediato Della certezza Sensibile E della percezione Stavolta Segnato Per la coscienza Dal carattere Del negativo Se stessa L'altro oggetto Diciamo così Che è la vera essenza E che inizialmente È data solo Nell'opposizione Al primo oggetto Cioè La separazione Che caratterizzava La sezione precedente Permane Con una differenza Che prima Ad essere essenziale Era L'essere Il polo oggettuale Mentre inessenziale Era il sapere Adesso Nell'autocoscienza In questa fase Ad essere essenziale È Il sé Mentre Ad essere Inessenziale È tutto ciò Che è altro Dal sé Molto banalmente Potremmo dire Che c'è tutto Un mondo intorno Che è inessenziale E poi ci sono io Che sono il vero L'autocoscienza Si presenta qui Come il movimento In cui Questa opposizione Viene rimossa L'opposizione Dell'autocoscienza Al mondo esterno E da cui L'autocoscienza stessa Vede emergere La sua propria Autoguaglianza Questa sua Autoguaglianza Le si deve fare chiara La coscienza Inizialmente Non ha alcun contenuto È quella pura identità Quella immobile D'autologia Proprio perché Si sa Come è contrapposta Al mondo esterno L'autocoscienza Deve riconoscere L'identità Di sé Con l'altro Deve cioè Togliere L'alterità Dell'altro C'è questo movimento Di cui L'autocoscienza Deve fare esperienza Che l'autocoscienza Deve intraprendere Che la porta A togliere L'opposizione Di sé All'oggetto Che la porta A togliere L'opposizione Di sé Alla coscienza E questo è esattamente Il percorso Che l'autocoscienza Deve compiere Per diventare ragione Cioè appunto Unità Di autocoscienza E coscienza Ciò detto Egel si accinge A parlare Del circolo della vita E vi anticipo Il succo Di queste pagine Che poi Leggeremo Egel vuole sostanzialmente Mostrare Come ciò A cui mette capo L'intelletto Quindi Quella unità Dei distinti Delle differenze Quella infinità Di cui abbiamo Già parlato Quell'unità Che tiene Assieme Le differenze Non sia Non sia altro Che la vita E vuole Conciutamente Mostrare Come ciò Che la vita È in sé L'autocoscienza Lo è per sé E anche qui Vale il solito consiglio Se non è chiaro Adesso Cerchiamo di Pazientare un pochino Perché Andremo avanti Con la lettura E cercheremo Di spiegare Quanto è stato Appena esposto Come la coscienza È ritornata Entro sé Allo stesso modo Per noi O in sé È ritornato Entro sé Anche il primo oggetto Che per la tua coscienza È invece Solo il negativo Mediante questa riflessione Entro sé L'oggetto È divenuto vita Ciò che l'autocoscienza Differenzia da sé E pone come sente Infatti Non è Mero oggetto Della certezza sensibile Della percezione Ma un essere Che è riflesso Entro sé L'oggetto Del desiderio Immediato È un vivente Qui Eger ci sta dicendo Che l'oggetto Con cui si relaziona L'autocoscienza Non è più l'oggetto Che era tema Nella sezione precedente Non è più una cosa L'oggetto Con cui adesso Si relaziona L'autocoscienza E che è Oggetto Del desiderio È un vivente Ora il fatto Che l'oggetto Sia mutato Non ci deve stupire Perché Ribadisco Sappiamo Come sappiamo Dall'introduzione Mutando il sapere Muta anche l'oggetto Ma appunto Siamo arrivati In un punto In cui c'è qualcosa Che in sé È evidente Ed è evidente Per noi L'autocoscienza Non lo sa ancora Quello che possiamo Evidenziare In prima istanza È che La vita Leben Si contrappone Alla cosa Ding La morta cosa La cosa Dalle molte proprietà Che però Sono proprietà Che la caratterizzano Come se fossero Delle parti esterne Rispetto ad essa Rispetto alla cosa La vita È invece Un tutto organico Ne aveva già parlato Kant Nella critica del giudizio In cui le parti Esistono Solo in funzione Del tutto In cui il tutto Esiste solo In funzione Delle parti Questo È la vita Non posso Far venire Meno una parte Senza che ne risenta Il tutto Quando parliamo Della vita Dell'Eben La vita È ciò Che tiene insieme Ed anima Le sue parti In una In separata Unità E come vi anticipiamo Stiamo per vedere Che la vita Sia proprio Quella infinità Unità Dei distinti Unità Che tiene assieme Le differenze Cui mette capo L'esperienza Dell'intelletto E che prima Ho provato A sintetizzare In effetti L'in sé Cioè il risultato Universale Del rapporto Tra l'intelletto E l'interno Delle cose Per dire così Ciò in cui Si imbatte L'intelletto È la differenziazione Del non differenziabile È l'unità Del differenziato L'unità Dei distinti È la stessa cosa Per capire Meglio Ciò di cui Sta parlando Egel Vi leggo Un passo Che è sempre Tratto dalle pagine Finali Della sezione Dedicata All'intelletto In cui E che parla Di questa unità Dei distinti Che come abbiamo detto Chiama anche Infinità Questa infinità Semplice Deve essere definita L'essenza Semplice Della vita L'anima Del mondo Il sangue Universale Che Ogni presente Non viene Turbato Né interrotto Da nessuna Differenza Il sangue Universale Quindi questa unità Dei distinti La vita La vita Universale Piuttosto E esso stesso Tutte quante Le differenze E a un tempo Il loro Essere Rimosse Ora quando Egel parla Di questa Di questo Sangue Universale Non sta facendo Riferimento Ad una Determinata E particolare Realtà Biologica Ma fa Riferimento All'essere Della vita In quanto Tale E vi anticipo Quanto stiamo Per vedere La vita Come L'autocoscienza È un'unità Che si rapporta A se stessa Ma che nel farlo Non può fare A meno Delle differenze Così iniziamo A vedere Diciamo così La radice Comune Di vita E autocoscienza Radice Comune Perché appunto Tanto la vita Quanto L'autocoscienza Come detto Sorgono Da quelle esperienze In cui si imbatte L'intelletto Che è appunto L'unità Dei distinti E qui Vi offro una rapida Chiarificazione Concettuale Perché Hegel Può parlare Di infinità Come sinonimo Dell'unità Dei distinti Dell'unità Dei differenziati Perché per farla breve Infinità È sinonimo Di unità Che tiene Assieme In sé Le differenze Perché infinità Significa Il non incontrare In ciò che è altro Da sé Un'opposizione Un limite Assoluto Infinità Appunto Significa essere In unità Con ciò che è altro Da sé Riprendiamo La lettura L'autocoscienza È l'unità Per la quale Si dà L'infinita Unità Delle differenze La vita La vita Invece È soltanto Questa stessa Unità Che a un tempo Non è tale Per sé Stessa Appunto L'autocoscienza È per sé Ciò che la vita È in sé Diciamo così Che solo Nell'autocoscienza La vita Raggiunge La sua Verità Solo L'autocoscienza Porta la vita A riflettersi L'autocoscienza È la riflessione Della vita Allora Qui salto Un piccolo passo In cui Hegel Accenna Al desiderio E lo salto Perché sarà Lo stesso Hegel A tornarci Così possiamo Vedere il circolo Della vita Che è a tema In queste pagine Vi sintetizzo Brevemente La faccenda La questione E poi leggeremo La vita È il principio Da cui E mediante cui Prende origine Ogni sua Ulteriore Specificazione La vita È l'attività Dello scendersi In sé stessa Permanendo Però Una Indivisibile È proprio Nel momento In cui Si scende La vita È ciò Che contiene In sé L'impulso Alla particolarità Alla Specificazione Alla Molteplicità Dei differenti Membri Dei differenti Viventi Cui la vita Dà origine Ma al tempo Stesso La vita È anche Ciò Che riconduce Questa Molteplicità Nella Semplicità Della sua Unità Cerchiamo Di capire Il circolo Si compone Di seguenti Momenti L'essenza È l'infinità Intesa Come l'essere Rimosse Di tutte le Differenze È l'autonomia Stessa In cui sono Dissolte Le differenze Del movimento Perché la vita È ciò Che cosa Sta dicendo Qui Sta dicendo Che la vita Non è Un vivente Tra i viventi Non è Un essente Tra gli essenti Ma è Il medium Universale Che tutti Li sostiene La vita È ciò Che riconduce A sé Tutti i viventi E proprio Per questo Non ha Più Alcun oggetto In opposizione A sé E qui È il termine Tedesco Gegestand Ma anche In latino Obiettum L'oggetto È ciò Che ci sta Contro Ma se Tutto È vita Se tutti I viventi Sono vita Potremmo dire La vita Non ha più Alcun oggetto In opposizione A sé Ecco In che senso La vita È come dice Egel L'autonomia In cui sono Dissolte Tutte le differenze E tra l'altro Questa autonomia In tedesco Si dice Selbst Stam Di Kite Dove Questo Selbst È il Self inglese Appunto Fa riferimento All'autoriferirsi E l'autoriferirsi È riferirsi Del sé Al sé In questo medium Semplice E universale Tuttavia Le differenze Si trovano Appunto Come differenze Ci sono I singoli Viventi Diciamo così Il flusso Universale Infatti Ha una natura Ha una natura negativa Solo perché È la rimozione Delle differenze Stesse E non potrebbe Certo svolgere Tale attività Se i differenziati Non avessero Una sussistenza Cioè Se la vita È questa unità Dei distinti Unità Del differenziato È che queste differenze Devono pure darsi Devono darsi Devono esserci Affinché La vita Come unità Dei distinti Possa superarle Possa toglierle Quindi Se la caratteristica Della vita Di questo medium Universale Che è la vita È di essere L'indifferenziato Vuol dire Che la vita Nega le differenze E queste differenze I singoli viventi Per essere negati Devono pure darsi Altrimenti La vita Non potrebbe negarli In quanto Autonomia Uguale a se stessa È proprio questo flusso A costituire La sussistenza Cioè La sostanza Delle differenze L'essere Non ha più Il significato Dell'astrazione Dell'essere Nella pura Essenzialità Dei membri Dei singoli viventi Dei differenti viventi Significa più Astrazione Dell'universalità Qui Hegel sta dicendo Che la vita Non è Un essere astratto Per Hegel L'essere è la più astratta Delle determinazioni Non è un universale astratto Proprio perché La vita è ciò che si Concretizza nei viventi La vita è ciò che Si incarna Nei singoli viventi Nei singoli membri Nelle singole figure Cui la vita Dà origine In generale Invece La differenza reciproca Fra questi membri Consiste Le singole figure In quanto differenza Soltanto nella Determinatezza Di momenti Dell'infinità Cioè Di momenti Dello stesso movimento puro Quindi è la vita stessa Che nega la propria unità Per differenziarsi Nei singoli momenti E dunque questi singoli momenti Sono tali Hanno senso Solo in riferimento All'unità che li origina Solo in riferimento A quell'unità Che è la vita In quanto unità Di distinti Unità Dei distinti I membri I membri autonomi Sono per sé Tale essere per sé Però È immediatamente Anche la loro riflessione Nell'unità In quanto questa unità È lo sdoppiamento In figure autonome Se l'unità È lo sdoppiamento In figure autonome Le figure autonome Non possono Non riflettersi Nell'unità L'autonomia Della figura Appare come un qualcosa Di determinato Che è per altro E in effetti È qualcosa di sdoppiato La rimozione Dello sdoppiamento Quindi accade Mediante un altro Che cosa vuol dire Che è l'altro Che mi elimina Mi sopprime E mi riconduce Al tutto della vita È l'altro Che è altrettanto Come me Differenziato Che è altrettanto Come me E ciò a cui la vita Ha originato Mi elimina È la minaccia Che incombe Dell'altro Che per l'appunto Mi elimina Mi sopprime E mi rimuove Riconducendomi Al tutto della vita Ma non è solo questo Dice Hegel C'è di più Questa rimozione Però È altrettanto Nella figura stessa Proprio perché Quel flusso È la sostanza Delle figure autonome Questa sostanza È infinita Ed ecco perché La figura Nella sua sussistenza E sdoppiamento È la rimozione Del proprio Essere per sé Quindi ci ha detto Hegel La soppressione La rimozione Non proviene Solo dall'altro Ma questa rimozione È all'interno Dell'individuo stesso Della singola figura Del singolo vivente E perché Perché è l'individuo stesso A portare al proprio interno La necessità Del proprio Dissolvimento Beh perché Abbiamo detto Che la vita È ciò che si incarna E si concretizza Nei singoli viventi La vita è ciò Che da libero corso A queste differenze Che produce queste differenze Produce i singoli viventi Ma nel momento in cui I singoli viventi Consumano la vita Per la propria sussistenza Sono al tempo stesso Anche consumati Dalla vita Che li riconduce Alla sua unità Periscono E così riprende Il circolo della vita Il singolo individuo Consuma la vita Per vivere Ma è al tempo stesso Consumato dalla vita Su questo aspetto Ci ritornerò Per il momento Lo possiamo tenere fermo Così Sperando di non cadere Troppo nell'effetto Bacio Perugina Possiamo dire Che la vita Muore per vivere La vita muore Perché vuole vivere Perché così Il circolo della vita Appunto Può riprendere E se uso questa espressione Cioè la vita muore Per vivere È perché Voglio far vedere Come rispetto Alla vita Alla morte Non sia qualcosa Di estraneo Non sia un momento Estraneo Anche qui offre Una piccola Chiarificazione concettuale E Hegel Sta usando il termine Ha usato il termine Figura Figure autonome Per riferirsi Ai singoli membri Sussistenti Ai singoli viventi I singoli individui Viventi Del resto Noi sappiamo Che questo termine Figura Viene utilizzato Anche per riferirsi Alle varie tappe Del cammino Della fenomenologia E in fondo Che cos'è Una figura Se non un momento Di questo percorso Che però Si considera Come autonomo Salvo poi Invece scoprire Di avere senso Solo in relazione Al tutto E allo stesso modo I singoli Individui Pensano di essere Separati Dal tutto Della vita Si presentano Come autonomi Così si concepiscono Ma in realtà Vengono sempre Ricondotti All'unità Della vita Proprio perché È la vita stessa Che pone Queste differenze Per poi Superarle Se passiamo A distinguere Con maggiore precisione I momenti Qui presenti Vediamo Che il primo momento È la sussistenza Delle figure autonome Quindi appunto I singoli Diventi Come dicevo Che si concepiscono Come separati Dal tutto Il secondo momento Invece È l'assoggettamento Di quella sussistenza All'infinità Della differenza Cioè L'individualità Distinta Che negherà Se stessa Negherà La sua separazione Per irà Per farla breve E che così facendo Appunto Sarà ricondotta All'unità Di quel movimento Che l'ha prodotta Che è appunto La vita Ecco che Il suo emergere Il suo Dell'individuo Del singolo individuo Il suo emergere Di contro All'intero Di contro All'unità Della vita È appunto La sua negazione Per ritornare All'unità Come dicevo prima La morte Non è qualcosa Di estraneo La vita Muore per vivere Ci ho detto Saltiamo un poco Così possiamo Tirare le somme Sostanzialmente Appunto Hegel ci ha detto Che la vita È questo duplice movimento Il movimento Che va Dall'unità Indistinta Che è la vita E che pone Appunto E sa stessa Le sue differenze E l'altro Il movimento Che invece Va dai single membri Questi figure Che sembrerebbero Sussistere Persì Ma che appunto Poi vengono invece Ricondotte All'unità Della vita La sostanza Semplice Della vita Dunque È a un tempo Lo sdoppiamento Della vita stessa In figure E la dissoluzione Di queste differenze Sussistenti La dissoluzione Dello sdoppiamento Inoltre È a sua volta Uno sdoppiamento E cioè Un'attività Che produce Dei membri Articolati In tal modo I due lati Dell'intero movimento Prima differenziati Vengono a coincidere Ritenendosi come separati Rispetto al tutto Si danno Di soluzione Morte Con la morte L'individuo Si reintegra Nella vita universale E questo genera Nuovi viventi Genera Della vita Ogni alterità Ogni alterità È provvisoria Proprio perché Viene ricondotta Alla vita stessa La vita È questa dinamica Questo movimento Che riduce L'altro A se stesso Proprio per ritrovarsi In questo altro E in qualche modo Già si vede Come la dinamica Che caratterizza La vita Sia simile Alla dinamica Che caratterizza E caratterizzerà L'autocoscienza Lo sviluppo Dell'autocoscienza Riproduce una forma nuova Allo sviluppo Della vita Ed è esattamente Quanto Hegel Sta per dirci Ora A questo punto Hegel definisce L'unità universale Che ha in sé Tutti quei momenti Come rimossi Che cos'è l'unità universale? Ciò di cui abbiamo appena parlato La vita Così come Tematizzata Nel circolo Che Hegel ci ha offerto La definisce Dicevo Come il genere semplice Pazientiamo un pochino Capiremo fra poco Perché Hegel Definisce la vita Il genere semplice Poi però Aggiunge Che in questo risultato Cioè come in questa Universalità Che rimuove le differenze La vita Rinvia un altro da sé Cioè alla coscienza Per la quale La vita È appunto Questa unità È genere Siamo arrivati al dunque La trattazione della vita Rimanda All'autocoscienza La vita Si compie E si realizza Nell'autocoscienza Si è detto Che la vita È ciò che si scinde In differenze reali I singoli individui Pur restando uguale a sé Si è detto Che l'essere della vita È il movimento Per cui essa La vita Si pone Come altro da sé Per divenire sé Bene Ciò si realizza Compiutamente Solo nell'autocoscienza Vita e autocoscienza Sono la stessa cosa Ma l'autocoscienza È per sé Ciò che è la vita È in sé Solo un'autocoscienza Che vita Diciamo così Può riflettere Ciò che la vita è Ed ecco Spiegato perché La vita Rinvia Qualcos'altro Da sé Cioè appunto Come ci ha appena detto Eagle Rinvia All'autocoscienza L'altra vita Per la quale Si dà il genere In quanto tale E che è per sé stessa Genere È l'autocoscienza Ora notate Qui Eagle Ci ha detto Che tanto la vita Quanto l'autocoscienza Alla quale si dà la vita Sono genere Usa il termine genere In entrambi i casi Ora lasciando perdere I riferimenti ad Aristotele Qual è la funzione del genere A cosa serve il genere Una prima elementare Funzione del genere Consiste Nel distinguere Le cose che sono Contenute in esso Da quelle che invece Appartengono ad altri generi E tuttavia però Così facendo Il genere Della differenza Delle cose Che esso contiene Non dice nulla La differenza Delle cose Contenute nel genere Io non la posso Dedurre a partire Dal genere stesso Per fare un esempio E così ci capiamo Quando io dico Mammifero Sto dicendo certo Il genere Che Racchiude tutti i mammiferi Ma sulle differenze Che intercorrono Tra questi singoli Mammiferi Che il genere Racchiude Il genere Non mi dice nulla Ora questo Che cosa significa Rispetto al discorso Che stiamo portando avanti Significa che Fino a quando Io resto fermo Soltanto al genere Le differenze Le differenze Che il genere Contiene Proprio perché Ha quella particolare Caratteristica Queste differenze Non hanno Una reale incidenza Infatti Prosegue Hegel Ora L'autocoscienza Vede innanzitutto Se stessa Solo come Questa essenza Semplice E ha per oggetto Se come io Puro E appunto La pura essenza La pura identità Di sé con sé Adesso Dobbiamo dunque Prendere in considerazione La sua esperienza Nel corso Della quale L'autocoscienza Vedrà questo oggetto Astratto Via via Arricchirsi Quindi Il sé Come io Puro Quel sé Che non si differenzia Deve invece Via via Arricchirsi Ed è questa L'esperienza Che sta per Discriverci L'io semplice È il genere E cioè L'universale Semplice Per il quale Le differenze Sono nulle Così ha definito L'io semplice Come il genere L'universale Semplice Per il quale Le differenze Sono nulle E ci ricolleghiamo Al discorso Che abbiamo fatto Sul genere In tal modo L'autocoscienza È certa Di sé stessa Solo perché Rimuove Questo altro Che le si presenta Come vita autonoma L'autocoscienza È desiderio Certa Della nullità Di questo altro L'autocoscienza Pone per sé Tale nullità Come propria verità Annienta L'oggetto autonomo E si conferisce Così la certezza Di sé stessa Come certezza vera Siamo tornati dunque A parlare del desiderio Cui avevamo già accennato Nelle pagine precedenti Perché parliamo del desiderio Perché appunto L'autocoscienza È questo movimento Della negazione Dell'altro Ed è una negazione Che attraverso Il desiderio Attraverso Il bevire Dell'appetito Si realizza Con l'assimilazione Di ciò che è altro L'autocoscienza Testimonia Della propria Indipendenza Assimilando a sé Gli altri oggetti Che riconosce Non essere autonomi Che riconosce Non essere indipendenti Nutrendosi di ciò che è altro Da lei Nega questo oggetto E così si autoriconosce Ora possiamo tradurre Questo bevire Come vogliamo Con appetito Con desiderio L'importante È non concepirlo Come un fenomeno psichico Come un atto psichico Non concepirlo Come qualcosa Che rientra Nella sfera del sentimento Perché questo bevire È l'atteggiamento Originario del sé Rispetto all'essente È un modo Del suo essere Non un atto psichico Un modo di essere Che porta A dirigersi Verso l'oggetto Che è esterno Di cui appunto Chi appetisce Non riconosce L'autonomia Non riconosce L'indipendenza Per questo Lo assigila Lo nega E lo fa proprio In questo appagamento Però L'autocoscienza Fa esperienza Dell'autonomia Del suo oggetto Abbiamo sin qui detto Che l'oggetto Non era autonomo Nel desiderio E invece Fa esperienza Del suo esatto contrario Classico rovesciamento Delle pagine Ghiliane Il desiderio E la certezza Di sé raggiunta Nell'appagamento Del desiderio Sono condizionati Dall'oggetto stesso Essi accadono Perché rimuovono Questo altro E affinché ci sia La rimozione Deve esserci appunto Questo altro Qui sta dicendo sostanzialmente Che nel suo appetire L'autocoscienza Dipende dall'oggetto Se per appagarsi Se per riconoscersi Indipendente Non può fare a meno Di negare L'oggetto del desiderio Di assimilare L'oggetto del desiderio Allora dipende Come da questo oggetto E se dipende Da questo oggetto Addio indipendenza Dell'autocoscienza E congiuntamente Addio mancata Autonomia Da parte dell'oggetto Che il desiderio Doveva negare Perché l'oggetto Del desiderio Si è invece Riconosciuto Mostrato agli occhi Dell'autocoscienza Come qualcosa Di indipendente Come qualcosa Di autonomo Mediante la propria Relazione negativa Dunque l'autocoscienza Non può Rimuovere l'oggetto E piuttosto Lo produce di nuovo Come pure Riproduce Il desiderio In fondo Qui è che ci sta dicendo Che Un appagamento Totale Completo Signerebbe proprio L'annullamento Della coscienza Quindi per continuare A sussistere Deve riprodurre Tanto il desiderio Quanto l'oggetto Del desiderio Se la vita È questo Per severare Nell'esistenza Insomma Questo conatus Che nel suo Livello più basso Si manifesta Come appetito Appagare del tutto Questo appetito Significherebbe Perciò stesso Annullare la vita Dunque Con l'appetito Nell'appetito L'autocoscienza Fa esperienza Dell'indipendenza Dell'altro Ma non era ciò Da cui era partita C'era l'altro Ma come inessenziale Era nella Non autonomia Dell'altro Che la coscienza Pensava di trovare Il proprio appagamento L'altro invece Adesso le sta dinanzi In quanto tale In quanto altro Non viene Rimosso Dall'appetito Quell'autocoscienza Che dunque affermava La propria indipendenza In opposizione Alla vita universale In opposizione A tutto quel mondo Che era altro da sé Quell'autocoscienza Che dunque Voleva essere Assolutamente per sé Ha invece Esperitto Fatto esperienza Della resistenza Dell'oggetto Resistenza dell'oggetto Che appunto Non riesce Ad annullare A togliere Tramite l'esperienza Del desiderio In effetti L'essenza del desiderio È un altro Dall'autocoscienza E proprio di questa verità Adesso L'autocoscienza Ha fatto esperienza Ha fatto esperienza Della ineliminabilità Dell'altro Nello stesso tempo Tuttavia L'autocoscienza È assolutamente Per sé Ed è tale Solo perché Rimuove l'oggetto E in ciò Deve appagarsi Qui Egel che cosa Sta dicendo Sta dicendo Che la verità Dell'autocoscienza Sta comunque Nel toglimento Dell'altro E tuttavia Questo toglimento Non si realizza Nell'appetito Allora Come si fa? In virtù Dell'autonomia Dell'oggetto Allora L'autocoscienza Può ottenere L'appagamento Solo quando L'oggetto stesso Compia in sé La negazione Ora Quando è in sé stesso La negazione E conciò E nello stesso tempo Autonomo L'oggetto È coscienza Sentenza Dopopoco Egel L'autocoscienza Ottiene il proprio Appagamento Solo In un'altra Autocoscienza Se Come ci ha fin qui Detto Egel L'essenza Della coscienza Sta comunque Nella negazione Dell'alterità Come potrà mai Trovare Appagamento Potrà trovare Appagamento Ci ha appena detto Egel Soltanto In un oggetto Che sia in grado In sé Di rinunciare Alla propria indipendenza Che sia in grado In sé Di compiere La negazione Cioè L'autocoscienza Potrà provare Appagamento Solo in un'altra Autocoscienza Perché l'unico Altro oggetto Che è in grado Di rinunciare Alla propria indipendenza È un'altra Autocoscienza Abbiamo visto Perché Stando alla dinamica Dell'appetito L'autocoscienza Non possa Trovare appagamento Nell'io naturale Nella naturalità Perché abbiamo visto Appunto Che rispetto All'appetito Abbiamo una storia Di appetiti E di oggetti Del desiderio Senza fine Senza scopo Che mai si appagherà Perché un totale Appagamento Significherebbe La fine della vita stessa E dunque L'autocoscienza Si dice Egel Trova appagamento Soltanto In un'altra Autocoscienza E infatti Chi è adesso Oggetto Dell'autocoscienza Dice Egel Che è un oggetto Che pone in se stesso Il proprio essere altro Un oggetto Che pone la differenza Come una differenza nulla E che così è anche autonomo Cioè è un'altra autocoscienza Qui sostanzialmente Egel ha ribadito Quella definizione Di autocoscienza Che noi abbiamo visto Sin dalle prime battute Dunque Non è Ciò che è Semplicemente Vivente Il vivente Che può rinunciare Alla propria indipendenza Ma è appunto Un'altra autocoscienza Ed è soltanto In un'altra autocoscienza Che l'autocoscienza Può trovare A pagamento Ci si avvia Insomma Verso quella Categoria Del riconoscimento Che sarà fondamentale Centrale Nelle pagine Che seguiranno E che è sostanzialmente Appunto Il succo Di tutta La vicenda Dell'autocoscienza Per cui ciò Che desidera Veramente L'autocoscienza È di essere Riconosciuta È un essere Riconosciuta Per riconoscersi Ho saltato un poco Così concludiamo Adesso si tratta Di un'autocoscienza Per un'autocoscienza Solo così L'autocoscienza È tale Effettivamente Solo così Infatti Per l'autocoscienza Diviene l'unità Di se stessa Nel suo essere Altro In tal modo Per noi È già dato Il concetto Dello spirito E la coscienza Farà appunto Esperienza Di ciò Che lo spirito è Celebre definizione Io che è Noi E noi Che è io La coscienza Ha la propria Chiave di bordo Solo nell'autocoscienza In quanto Concetto Dello spirito Nella misura In cui Adesso abbiamo Delle autocoscienze Che si rapportano Tra loro Nella misura In cui Diciamo così Dinanzi ad un'autocoscienza Sta un'altra Autocoscienza Noi siamo entrati In quella dimensione Pubblica E collettiva Che già nel video Dedicato all'introduzione Dicevo Caratterizzare lo spirito Essere l'elemento Caratterizzante Dello spirito Quello che Hegel Sostanzialmente Vuole dire In questa pagina In questo passo È che l'io Si realizza Solo in una comunità Di io Sta già anticipando Quello che sarà Appunto Il contenuto Dell'eticità Il noi È l'unità Dei diversi io Dove appunto Però il singolo io Non è andato Perduto Ma è tolto E conservato Attenzione però Qui Hegel Ha detto Che per noi Cioè per noi Che assolutamente Sappiamo È già dato Il concetto Dello spirito E qui Concetto Dello spirito Significa Lo spirito Non ancora Sviluppato Nella totalità Delle sue determinazioni E del resto Sappiamo Che la coscienza Di strada Ne deve fare Ancora tanta Prima di approdare Alla sezione Diciamo così Dedicata allo spirito L'autocoscienza Che è Concetto Dello spirito Il momento In cui per dir così Lo spirito Sorge Si appresta dunque A compiere Il cammino Della propria Autorealizzazione